Signori anche quest'anno ci abbiamo dei signori appassionati della Gincana pensate sono venuti da Padova, dalla Germania, amici come Scarafilo che ci segue da tanti anni, da Ceglie amici che sono venuti dalla provincia di Avellino, Salerno, che sono concorrenti tra l'altro e ci abbiamo gente molto qualificata. Un applauso a questi signori, grazie signori, dai un applauso un grandissimo ringraziamento a loro, grazie. Intanto Ida l'Argentino sta interpretando lo Slalom con la sua Alfa Romeo GT, ricordiamo che le nazioni posteriori sì sono divertenti da guardare ma signori sono difficilissime da controllare tutto ciò che vedete e abilità dei piloti.